Allora, io comincerei, io sono Giovanni Durbiano, insieme ad Alessandro Armando abbiamo curato questo libro, Critica della ragione progettuale, che stasera discuteremo con un filosofo, Maurizio Ferraris, che presumo che conosciate tutti molto bene, che ha partecipato a questo libro e due figure invece che non hanno partecipato, Filippo Barbera e Filippo De Pieri, che sono rispettivamente un sociologo che insegna a Unito e un collega del Politecnico che insegna storia dell'architettura, che però hanno molti cantieri di cui fa parte questo libro in comune con noi, per cui non sono propriamente degli estranei, anzi sono persone con cui sono anni che discutiamo e ragioniamo con loro su questi stessi temi da prospettive diverse. Il libro è curato da me e Alessandro, ma in realtà contiene all'interno tre corposi saggi di filosofi, uno è Maurizio Ferraris, che parlerà dopo, un altro è Carlo Galli, che è stato professore di filosofia politica all'Università di Bologna, e il terzo è Bruno Moroncini, che è un filosofo che ha insegnato a Salerno fino a poco tempo fa e che è mancato poche settimane prima dell'uscita del libro, lasciando un vuoto nelle nostre esistenze che non è facile colmare sia dal punto di vista delle cose che ci ha detto, e queste si possono leggere nel libro, sia nel come ce le ha dette, con una modalità specifica, peculiare, che sarà molto difficile dimenticare nel tempo, ricorderemo a lungo. C'è poi ancora un filosofo che è qui in sala, Tommaso Listo, che ha scritto un appendice sulla possibilità di progettare ancora nella contemporaneità. È un filosofo, ma sta facendo il dottorato al Politecnico in Architetture, per cui è particolarmente adatto a fungere da trait d'union tra queste due culture differenti. Il libro. La prima cosa che vorrei dire è che è un libro scritto da architetti, ma edito da una casa editrice che non è affatto specializzata, anzi che ha pubblicato pochissimi libri di architettura. E questo è stato fortemente voluto da me e da Alessandro, cioè pubblicare con un editore non di architettura, è anche favorito dal fatto che Maurizio Ferrari sia impegnato a far sì che questo potesse succedere, ma ci siamo presi il rischio, io e Alessandro, e abbiamo avuto l'ambizione di pubblicare con un editore non di architettura, perché ci interessava molto riuscire ad uscire dal cerchio, diciamo, del dibattito degli architetti e provare, e uso un termine un po' enfatico, ma a portare le questioni che ci riguardano nel mondo e non nel mondo ristretto degli architetti. Non è, lo dico subito, una cosa particolarmente originale perché ci sono stati momenti nella storia dei dibattiti, nella storia della cultura italiana, perlomeno dal dopoguerra in poi, in cui l'architettura, il progetto architettonico ha avuto questa capacità di conquistarsi un mandato sociale, di essere capace di parlare al mondo. Penso ad esempio al momento della ricostruzione del dopoguerra, quando si è parlato di, quando si discuteva di come fare le case, rifare le case distrutte dalle bombe, come dare nuove case a chi si trasferiva dall'Italia, da una parte all'altra dell'Italia. Quel dibattito non era un dibattito fatto solo da architetti, c'erano gli architetti ma c'erano anche tanti altri che ne parlavano. Un secondo momento in cui si è parlato di architettura e la sua mandato sociale nel mondo è stato ad esempio quando negli anni del boom economico si è parlato, mentre l'Italia si riempiva di infrastrutture, si cementificavano le coste, si allargavano le periferie, parlare del volto che stava assumendo quell'Italia non è stato un tema solo degli architetti ma anche di politici genericamente del mondo della cultura. Molte riviste come Contropiano, Contospazio, Casabella hanno affrontato questi temi e gli architetti erano presenti nei dibattiti culturali non di architettura e viceversa i sociologi, i politici, i filosofi erano presenti nelle riviste d'architettura. Un ultimo esempio di questo scambio ancora diverso è negli anni Ottanta quando nella discussione sul postmoderno e su cosa significava schierarsi tra due paradigmi diversi, la modernità e la postmodernità, l'architettura un po' per caso ebbe la sorte di poter avere la capacità di mettere in rappresentazione queste alcune istanze e anche lì ci fu uno scambio importante in cui l'architettura fece la sua parte mettendo in sedicesimi alcune questioni che in altri contesti venivano dibattute con un livello diverso. Questo per dire che ci sono stati momenti in cui l'architettura ha provato a parlare al mondo. Noi proviamo con questo progetto anche consapevoli che invece oggi a dominare la scena è fuffas, è i discorsi un po' egolatrici dell'architetto che parla del proprio ombelico. Invece il tentativo che facciamo con questo libro è proprio di provare a ricostruire un ponte e lo facciamo anche per degli interessi molto materiali. Sia io che Alessandro siamo dei dipendenti del Politecnico di Torino dove c'è una parte del Politecnico, gli ingegneri che tirano la carretta, che fanno i conti, che sanno fare le misure e che diciamo si fanno carico di produrre degli effetti e gli architetti spesso rischiano di trovarsi a raccontare delle favole. Allora ricostruire un rapporto possibile tra calcolo e invenzione è uno dei compiti che si propone questo libro. E come lo fa? Lo fa in una maniera molto semplice, ponendo il progetto architettonico, la sua pratica, come un piccolo laboratorio in cui alcune riflessioni di ordine generale, per intenderci i discorsi dei filosofi, entrano in questo laboratorio del progetto architettonico ed escono in forma di provvedimenti. Provvedimenti su dove sta un muro, sul colore di un tavolino. Il discorso viene benissimo, è il provvedimento che non viene. Sul materiale di un palco, su un fregio. Provvedimenti per cui questo rapporto tra discorso e provvedimenti introduce una misura che è quello che ci interessa far passare come tentativo su cui ricostruire un mandato sociale del progetto. Concretamente il libro fa una cosa molto semplice, è fatta a forma di panino. C'è una domanda degli architetti, ci sono delle risposte dei tre filosofi e poi gli architetti chiudono il libro con un'ulteriore riflessione diciamo che riporta ai termini della pratica quello che gli architetti, quello che i filosofi hanno fatto in un discorso più ampio, più generale. La domanda degli architetti, quella con cui inizia il libro è fatta in due momenti. Prima viene messa in discussione una figura idealtipica del rapporto tra progettista e mondo che è quella diciamo dell'architetti e del committente. Spesso si riduce la questione del rapporto col mondo a quella del committente. Allora noi prendiamo una coppia paradigmatica di architetti e committente che sono Adolf Hitler e Albert Speer, l'architetto del Terzo Reich, che vengono descritte nelle memorie di Albert Speer in tutte le sue vicissitudini e noi le prendiamo a pretesto per destrutturare questo ragionamento che presuppone in maniera appunto idealtipica che il progettista non faccia altro che mettere in forma, che tradurre un'idea che lo precede e che è in capo al committente. Allora è un sistema lineare dall'idea alla prassi, dall'idea alla messa in forma. Partendo da questa rappresentazione che è quella che fa Albert Speer nelle sue memorie, noi invece mettiamo a confronto le nostre esperienze di pratica, che sono pratiche professionali molto ordinarie, neanche tanto di successo che io e Alessandro con i nostri colleghi abbiamo fatto e che sono simili a tutte le pratiche dei colleghi che vedo in sala e che sono piene di miserie, di finitudini, di contingenze e di questioni che vanno tutte le volte aggiustate in funzione di quello che capita. Facendo questo confronto tra la rappresentazione idealtipica e la contingenza del nostro mestiere viene fuori una rappresentazione un po' più complessa, da cui nascono delle domande. Le domande adesso schematicamente sono tre, anche perché tre erano i filosofi. La prima domanda è sul sapere. Qual è il sapere del progettista? Cos'è che effettivamente sa e che non sa l'ingegnere e che non sa l'artista e che non sa qualcun altro? Qual è la cosa che noi progettisti sappiamo e che gli altri non sanno? Provano a rispondere tutti a questa domanda, ma prova a risponderci un po' di più Bruno Moroncini, che mette in discussione ad esempio il rapporto tra arte e tecnica su cui si è costruito emblematicamente il rapporto dell'architetto. La seconda domanda è sul potere. Qual è il vero potere del progetto? Non del progettista, del progetto. Cosa fa un progetto quando riceve un timbro e parte? Anche qui la questione è quanto il lavoro del progettista è di mediazione con istanze e quanto invece assomiglia a quello del sovrano che ha un rapporto di immediatezza, che decide. Un triangolo, un cerchio, la decisione. Il terzo punto è una domanda sull'agire, a cui risponde soprattutto Maurizio Ferraris, cioè come si può organizzare l'azione del progettista quando il futuro è imprevedibile? E soprattutto, visto che siamo il Politecnico e vogliamo costruire la legittimazione del nostro essere al Politecnico, cosa vuol dire nella progettazione architettonica l'innovazione? A queste domande rispondono i filosofi insieme, ma in particolare Moroncini sul sapere, Galli sul potere, Maurizio Ferraris sull'agire. E poi noi alla fine facciamo un discorso in cui proviamo a riportare alla dimensione pratica o pragmatica quelle considerazioni per vedere se il laboratorio funziona. Questo, in estrema sintesi, sono le questioni che poi andiamo nel libro. Ne parliamo nel programma che ci siamo dati, in primis con Filippo Barbera e Filippo De Pieri. Filippo De Pieri insegna storia dell'architettura al Politecnico e lascio a lui la parola. Credo che si senta. Ci sono due cose da dire per cominciare. La prima è, e non è rituale, è riconoscere la qualità assoluta di questo lavoro, che è un libro di altissimo livello. Giovanni Durbiano raccontava prima una serie di occasioni di scambio tra architetti e filosofi, architetti intellettuali che hanno segnato la storia di questo paese nell'ultimo secolo. Io ho in mente altri episodi meno nobili di scambio tra architettura e filosofia, avvenuti anche in tempi abbastanza recenti, in cui spesso negli architetti e nei filosofi hanno fatto una gran figura. Molti tentativi recenti di dialogo tra architettura e filosofia hanno giocato un po' a ribasso, usando dei temi di discussione puramente strumentali, solleticando alla vanità dei protagonisti senza portare davvero dei contributi teorici rilevanti. Non è questo il caso. Questo è un esempio abbastanza raro nella letteratura contemporanea, almeno sull'architettura, di dialogo tra architetti e filosofi in cui sicuramente gli architetti controllano bene i linguaggi che usano nel discutere con i filosofi e i filosofi mostrano un'autentica intenzione di dialogo con gli architetti. È un libro per questa ragione anche abbastanza difficile da leggere, però anche scritto in modo veramente limpido. È un libro altamente leggibile nonostante la difficoltà dei temi che propone. Insomma è un lavoro di altissimo livello che secondo me sposta in alto alcuni aspetti del dialogo tra architettura e filosofia dentro le nostre scuole di architettura, almeno lo dico da lo spettatore di quello che succede dentro alle scuole di architettura. L'altra premessa è che proprio per questa ragione può essere un libro in cui è un libro relativamente che si legge bene, ma che può essere difficile da discutere. Il compito che abbiamo Filippo Rabera e io questa sera è un compito improponibile perché è una conversazione molto fitta appunto tra architetti e filosofi che si svolge per lo più nei termini della discussione filosofica, in cui chi non controlli pienamente i codici della discussione fa fatica a entrare dentro gli argomenti in modo dettagliato. Ci sono molti in questo scambio, in questo dialogo, che è anche un po' un dialogo fra sordi come tutti i veri dialoghi, voi ponete delle domande, i filosofi in parte vi rispondono in parte no, voi prendete le risposte dei filosofi e poi dite un po' quello che volete dire e in questo senso è un dialogo molto vivo. Poi è anche un dialogo in cui appunto volendo isolare alcuni degli argomenti che vengono proposti e smontarli, analizzarli, servono una serie di competenze che io sicuramente non posso mettere in campo, diciamo. Si ha l'impressione di osservare una conversazione molto piacevole da persone fortemente specializzate che si ha voglia di non disturbare top. E questa è la ragione per cui quello che farò io brevemente questa sera sarà di non entrare nel merito degli argomenti, delle domande che voi proponete, delle risposte che i filosofi danno in merito alla teoria del progetto architettonico. Ricordiamo che questo libro parla di progetto architettonico come di qualcosa che può essere, almeno in linea teorica, distinto dall'architettura costruita e si occupa appunto di ragionare su che cos'è la pratica del progetto architettonico. Io non entro nel merito degli argomenti che il libro propone sul progetto architettonico, sto invece più sul perimetro di quello che voi avete fatto, che è anche una delle cose che mi interessano di più in questo lavoro. Il modo in cui avete isolato alcuni temi di dibattito e di discussione, decidendo che il perimetro della conversazione era quello e non un altro, è il modo in cui avete gestito e costruito la discussione, il modo in cui il libro propone un tentativo di costruire una forma di ragionamento scientifico sul progetto architettonico e mi interessa molto il modo in cui voi avete costruito quest'operazione, operazione che del resto non nasce con questo libro ma viene da più lontano, come una parte importante del pubblico di questa sala sicuramente sa, voi avete pubblicato qualche anno fa un libro che si intitola Teoria del progetto architettonico, dei disegni agli effetti e quest'ultimo libro fa parte di una costellazione di libri più recenti, in parte vostri, in parte di persone che hanno dialogato con voi, che osservano questi temi su cui voi lavorate da qualche anno da più punti di vista in qualche modo. Allora, quello che farò nei prossimi minuti è prendere i tre temi che voi avete posto ai filosofi, le tre parole chiave che sono appunto il sapere, il potere e l'agire e ribaltarli un po' per gioco su di voi, ponendo anche a voi delle domande che sono domande che riguardano appunto non la teoria del progetto architettonico ma il modo in cui voi avete costruito un progetto di conoscenza sul progetto architettonico. Comincio dal sapere. Allora, questo è un libro che a me piace tantissimo perché è pieno di storie, io faccio lo storico dell'architettura, le storie mi appassionano e voi cominciate questo libro raccontando delle storie, l'ho ricordato molto bene Giovanni, c'è la storia di Hitler e Albert Speer, quindi c'è un esempio che viene pescato dalla storia dell'architettura perché si ritiene rilevante della discussione e poi ci sono le storie che riguardano voi, tre storie tratte dalla vostra esperienza di progettisti all'interno di uno studio associato in cui voi raccontate alcune cose che vi sono successe in quanto progettisti, costruite quella che chiamate se non sbaglio una microfisica della pratica progettuale. Queste storie sono molto belle da leggere per due ragioni, la prima che sono molto vivaci, sembra di essere usciti a cena con voi questa sera e di avervi sentiti raccontare, tu non sai cosa mi è successo il mese scorso, questo insieme di incidenti incredibili che mi è capitato su questo cantiere. Quindi restituiscono anche questa aneddotica in qualche modo di cosa accade durante un progetto, alcuni dei filosofi usano la parola peripezie, che a me è piaciuta molto perché in contraposizione all'architetto eroe che sarebbe Albert Speer, voi sembrate più dei Buster Keaton in queste storie, c'è un genere comico che viene fuori. In particolare le vostre storie sono offerte alla riflessione dei filosofi appunto venendo associate ad alcune domande specifiche, voi raccontate queste storie anche con molta attenzione, mettendoli in ordine, selezionando le cose da raccontare, decidendo cosa è rilevante a raccontare e cosa no, e poi le storie finiscono sempre con delle domande che sono di ordine in realtà generale, voi da queste storie starete delle questioni che vi sembrano caratterizzare sempre in qualche modo la pratica del progetto, le storie sono un esempio di qualcosa che secondo voi tende a ripetersi. I filosofi poi reagiscono alle domande, alle storie che voi avete proposto, reagiscono forse di più alla storia su Speer che non alle vostre storie individuali, Speer è in assoluto nell'indice dei nomi il nome che compare più spesso, credo sia colpa in parte di Maurizio Ferraris che ne ha fatto il centro del suo saggio, ed è anche colpa sua, però le storie sono appunto il punto di partenza per un salto a una riflessione di tipo filosofico che viene appunto proposta al dialogo con i filosofi. Quello che mi appassiona in questo è quello che voi fate di fatto, il tentativo di saltare proprio dal particolare a un generale che si pone quasi come ricerca di alcune universalità che riguardano il fare progettuale, vi ho raccontato delle storie molto specifiche, ma queste storie portano a delle domande che devono, che puntano a una conoscenza di natura generale. Questo rapporto tra il particolare e il generale è qualcosa che ossessiona non solo voi, ma molti di noi. Vale per il mio lavoro di storico, credo valga per il lavoro di molti sociologi, vale per il lavoro di molti intellettuali contemporanei, diciamo alle prese col problema di come comprendere qualcosa che può essere situato specifico e al tempo stesso attingere a qualche forma di generalità, che non necessariamente deve essere l'universalità. Allora il modo in cui voi costruite il rapporto tra particolare e generale in questo libro è molto interessante. Mi sembra che una delle domande chiave sia... e pone dei problemi proprio di... Va bene, fermatemi se esagio. E una delle domande chiave quando si costruiscono delle storie o si ricostruiscono delle storie per cercare di ottenere delle conoscenze più ampie è anche dove ci si ferma, cioè quando è che ne sappiamo abbastanza su una storia per poter passare una fase successiva in cui proviamo a costruire dei ragionamenti di ordine generale. E ve lo dico perché, qui vi lancio una provocazione, io mentre leggevo il vostro libro ero, ero e sono, molto appassionato alle storie che raccontate appunto, sono delle bellissime storie, al tempo stesso mi accorgevo che una parte di me tendeva a non credere alle storie che voi mi raccontavate. Non perché io pensi che voi abbiate inventato le storie che raccontate, ma perché una parte di me tendeva a pensare ma sarà davvero successo così? Ne so abbastanza per passare al livello di riflessione filosofica che i due curatori stanno proponendo ai filosofi, non dovrei saperne qualcosa di più. Le vostre storie sono delle autonarrazioni, voi raccontate cosa vi è successo dal vostro punto di vista, raccontate di processi molto complessi che coinvolgono una pluralità di attori, scegliete voi quali attori entrano nel quadro e quali no e soprattutto tutta la storia è sempre e solo raccontata dal vostro punto di vista, noi non sappiamo mai né cosa pensavano gli altri attori della storia né qual è la loro logica d'azione, come si sono comportati, né se ci sono altri attori che sono rilevanti per la storia di cui voi magari non vi siete neanche accorti. Lo dico perché da storici capita spesso di trovarsi di fronte a situazioni di questo tipo, di avere storie che sono state raccontate in un certo modo e poi quando le ristudiamo scopriamo che invece gli attori rilevanti di questa vicenda erano tutt'alti, quindi nella storiografia questo succede e nessuno storico serio accetterebbe, qualche volta è successo ed è successo anche seriamente, ma in generale nessuno storico tendenzialmente accetterebbe di costruire, di imbastire un ragionamento ambizioso sulla base solo di alcune autonarrazioni dei protagonisti e qui in questo libro noi abbiamo le vostre autonarrazioni e l'autonarrazione di Speer sostanzialmente, cioè abbiamo quattro autobiografie. Allora eppure voi siete, ve lo chiedo perché voi in realtà mi sembrate molto solidamente convinti di quest'operazione, quindi qui c'è proprio un paradigma epistemologico che in qualche modo entra in gioco, cioè mi sembra che il libro dica che anche a partire da delle autonarrazioni, se le autonarrazioni sono purificate e presentate nel modo giusto e già messe in forma narrativa in relazione con un contesto teorico, possono reagire e portare a una qualche forma di conoscenza più ampia. Quindi questa se volete è la prima domanda, aggiungo anche che le vostre storie sono molto situate, a me non sembrano così ordinarie, nel senso che sono ordinarie rispetto alle grandi storie eroiche di architetti come Speer, ma hanno anche dei caratteri molto specifici, voi vi occupate sempre per esempio di interventi su edifici storici, siete in situazioni in cui conoscete molto bene quasi tutti gli interlocutori con cui interagite, parlate la stessa lingua degli interlocutori proprio nel senso che tutti parlate italiano, avete una conoscenza del contesto per cui siete in grado di capire in che direzione evolve un processo con cui o no. Se io penso alla situazione globale della pratica progettuale nei pochi casi con cui mi capita di avere a che fare, ho in mente situazioni anche molto diverse da queste, quindi c'è anche ovviamente un problema di generalizzabilità a partire dalle storie che vi ho raccontato, è un problema, una questione aperta io direi semplicemente, per cui altri magari vi direbbero che per un passaggio alla generalizzazione potrebbero aver bisogno di più passaggi di mediazione, di una maggiore comparazione, di una raccolta di casi più diversi rispetto a quelli che voi avete proposto. Non sono sicuro che questa sia la soluzione, ma mi sembra una domanda da porvi. Quindi in sostanza questa prima domanda sul sapere riguarda il modo in cui voi avete pensato a questo passaggio dal particolare al generale e in particolare il modo in cui pensate, ritenete che avete ritenuto che fosse importante, interessante, un passaggio da forma di autonarrazione molto specifica alla riflessione filosofica. Anche questo dialogo stretto con i filosofi, anche se i filosofi non sono tutti uguali, qui abbiamo filosofi di formazione e orientamenti diversi e anche una scelta di campo molto netta, avreste potuto dialogare con sociologi, antropologi, trapezisti, avete scelto dei filosofi. Anche rispetto al panorama contemporaneo della riflessione sul progetto di architettura, questa è una scelta che ha degli elementi di originalità, non è così ovvia. Quindi anche questa è una scelta sempre rispetto al modo in cui avete immaginato il passaggio dal particolare al generale, che mi sembra vada... la domanda alla fine sta qui. Sul potere, c'è quindi andare un po' più veloce, se no parlo solo io stasera. Una delle parole chiave di questo libro, come di alcuni vostri libri precedenti, è efficienza. Ci raccontate che in sostanza una parte di questa operazione che vi state costruendo serve a rendere più efficiente, se possibile, il progetto architettonico all'interno di determinati contesti particolarmente complessi. Voi non definite, certo non lo fate in questo libro, la parola efficienza ce la date come un concetto non di senso comune, ma comunque è un concetto su cui si è accumulata una riflessione teorica e filosofica che voi date un po' per scontata. L'efficienza è legata a queste peripezie di cui dicevamo, al fatto che le vostre storie sono caratterizzate, voi amate usare la parola inciampi, sono caratterizzate da molti inciampi. Succedono molte cose che portano il progetto a diventare diverso da com'era, portano un progetto bellissimo a essere bocciato all'improvviso, non si capisce perché, vi portano a dover fare un progetto molto più ampio di quello che vi è stato assegnato, perché se no le persone non si mettono d'accordo, non sembra che non riusciate mai a fare esattamente in modo competente quello che vi viene chiesto, come si può diventare più efficienti, più efficaci da questo punto di vista. Che cos'è questa efficienza? L'efficacia, scusate, non l'efficienza. Che cos'è questa efficacia? È la capacità di tradurre le forme che avete in mente, le forme del primo progetto che avete disegnato in maniera più diretta, in una forma costruita, non si direbbe. Non si direbbe che voi vogliate questo, sia perché all'interno di questo lavoro la forma in generale dell'architettura non è al centro del vostro ragionamento, voi l'avete volentieri lasciato ai margini del ragionamento, anche perché troppa teoria dell'architettura ha insistito diciamo sugli aspetti formali dell'architettura, e anche perché Tommaso Listo lo sospetta nella sua postfazione, perché in fondo a voi il caos un po' piace, perché questa situazione di complessità di attori e di situazioni dentro cui il progetto si trova gettato in realtà per voi è costitutiva del progetto, non è qualcosa che si può eliminare in qualche modo. Quindi sembrerebbe, ma mi dite se questa interpretazione è giusta o sbagliata, che per voi l'efficacia stia nella capacità di inflettere questi processi in direzioni date, in una capacità di saper prevedere meglio le reazioni dei diversi attori o tanti in gioco, in una capacità di ottenere risultati in una sorta di governo a distanza di questi collettivi dentro cui vi trovate, una capacità di avere più influenza non solo sulle decisioni finali, ma anche in qualche modo sul comportamento di alcuni degli attori in gioco. E' così? Se è così, somiglia molto a un potere, somiglia molto a una ricerca di un potere. Voi non la definite in questi termini, però questa è una domanda. Si può pensare in termini di potere questo tipo di efficacia? In questo caso, se fosse così, il vostro obiettivo non sarebbe solo di vedere meglio riconosciuta la vostra competenza in quanto progettisti, ma anche in qualche modo, lo dite a un certo punto, di recuperare quella dimensione politica dell'architettura, di cui discutete in alcuni punti, per esempio parlando di Pier Vittorio Aureli, e che forse, ve lo chiedo, è qualcosa che ha a che fare, un obiettivo che ha a che fare con questa efficacia? Qui siamo, come al solito, sulla dimensione tecnica, la dimensione politica dell'agire architettonica. Ultima domanda, ultimo campo, l'agire. C'è questo, c'è questo, ci sono questi paragrafi sull'agire, quello iniziale in cui ponete le domande, poi i commenti finali, in cui voi associate sistematicamente due temi. Uno è il tema della battaglia, del trovarsi, del progetto della battaglia, della guerra, come possibile metafora del progetto architettonico, tra l'altro alcuni dei protagonisti di questa serata ne parlavano, giusto qualche giorno fa, in un seminario al Politecnico di Torino. Uno è questo, quindi, il progetto architettonico come combinazione di strategia e tattica per fare cose, che cos'è la strategia, che cos'è la tattica. E poi un altro tema che voi associate a questo è quello dell'innovazione, che si lega a questa immagine del laboratorio, a cui voi associate al progetto architettonico. Credo che vi interessi definire il progetto architettonico come un laboratorio, proprio perché il laboratorio è uno dei luoghi dove si produce l'innovazione. E c'è un bellissimo diagramma nel vostro libro, che mi spiace non poter mostrare, perché racconta molto bene alcune cose. Io ce l'ho qui sull'iPad, ma non si vede, ve lo faccio vedere. E uno dei diagrammi, loro disegnano ossessivamente una serie di diagrammi in cui c'è un'asse delle ascisse, un'asse delle ordinate, che definiscono una specie di cosmologia dentro i quali loro collocano. E in questo diagramma, che ho già perso perché ho messo il dito nel punto sbagliato, ma adesso lo recupero così ve lo racconto, ecco, il diagramma è un diagramma di come è possibile portare innovazione dentro il progetto architettonico, in sostanza. Voi distinguete fra due, ci sono due coppie di estremi. Uno è quello della stabilizzazione contro la regolazione e l'altro è quello della preparazione contro l'interazione. Non la faccio lunga, dico solo che quando si legge questo diagramma su, il diagramma riguarda gli strumenti attraverso cui si può portare innovazione nel progetto di architettura, ci sono essenzialmente due famiglie di strumenti che voi riconoscete. Ci sono da un lato gli strumenti digitali, l'innovazione che passa attraverso gli strumenti digitali che entrano in varie fasi del progetto, della discussione, della presentazione, ma c'è un altro campo che è tutta la parte superiore del vostro diagramma che riguarda invece l'elaborazione intellettuale, dove quello che voi collocate in questo diagramma sono tutti i libri, quella costellazione di libri di cui parlavo, vostri, di vostri amici, di persone con cui avete dialogato. Sto citando il diagramma per dire che quello è un punto molto esplicito del libro in cui voi sostenete che libri come questo, il libro non sta nel diagramma ma entra nella prossima versione del diagramma, libri come questi sono uno strumento del progetto architettonico, in termini bellici un'arma forse, oppure una teoria strategica che permette di muoversi sul campo in maniera più efficace. C'è dentro questo libro in parte questa idea, l'idea che costruire un libro come questo serva appunto a quell'efficacia di cui dicevamo, cioè sia uno strumento che vi permette di essere più capaci di riconoscere certe situazioni, anticipare alcune mosse, capire cosa sta succedendo. Questo pone una domanda, che è una domanda molto banale, io vado dopo aver detto cose più complicate che qual è il pubblico di questo libro, secondo voi. È un libro, perché se vale il diagramma, al limite il libro potrebbe essere stato scritto essenzialmente per voi due o per il vostro studio di architettura. Voi avete un problema, avete troppi inciampi nella costruzione dei vostri progetti di architettura, attraversate storie paradossali come quelle che avete raccontato all'inizio, scrivere libri come questo aiuta a costruire uno sfondo teorico che poi va misurato sull'azione in qualche modo e i filosofi sono i vostri consulenti bellici essenzialmente, i vostri consulenti strategici. Il loro ruolo è quello di chiarirvi le idee rispetto ai vostri mezzi. All'altro estremo invece c'è l'idea che questo sia un libro che tutti qui dentro possono leggere, qui siamo dentro al circolo dei lettori, cioè dentro un luogo che incarna perfettamente un ideale rapporto tra diciamo lettura, cittadinanza e democrazia. E a me piace, pensa, e il mulino anche incarna un po' quest'idea, no? E ovviamente a me piace pensare, io credo che questo sia un libro che tutti possono leggere esattamente in questo senso. Però, come dire, le due posizioni non si equivalgono, alcuni degli argomenti del libro sono più validi se noi difendiamo una posizione che non se ne difendiamo un'altra. Ci sono alcune cose che sono desiderabili per gli architetti che hanno un problema di strategie e di tattiche che sono meno desiderabili per un cittadino. Io come cittadino, e non come architetto, del resto io non sono un architetto, sono un architetto di formazione ma non praticante, io come cittadino potrei anche non desiderare che gli architetti siano più efficaci nel senso che volete voi. Io potrei anche non ritenere desiderabile che la teoria del progetto architettonico raggiunga un altro livello di raffinatezza quanto alla sua efficacia sul piano delle pratiche. Io sono contento che Albert Speer non abbia avuto tra le mani la teoria del progetto architettonico quando disegnava i suoi orribili progetti, per fortuna non realizzati per Berlino, perché questo forse non è andata così male. Ci sono insomma, non tutto quello che è desiderabile dal punto di vista della costruzione di un'efficacia dell'azione progettuale dell'architetto è altrettanto desiderabile dal punto di vista di una riflessione più ampia sul ruolo del progetto architettonico dentro alla costruzione dei processi decisionali, diciamo, in un ambito democratico. E su questo, secondo me, il libro a volte tende più, ogni volta che l'argomentazione si fa più spinosa, diciamo, tende più a dire ma noi in fondo stiamo ragionando da architetti. Ci interessa questo lato qui, che è un modo molto bello di esplicitare chiaramente la vostra posizione dentro questa storia, ma a volte è anche un modo di sfuggire ad alcune domande di sfondo, diciamo, che stanno dietro a questa storia, rispetto al ruolo dell'architettura dentro i processi di costruzione, diciamo, delle città in una società democratica. Ho parlato troppo, ho finito, credo di avervi fatto fin troppe domande. Grazie. Bene, allora, grazie per l'invito. Allora, anche a me il libro è piaciuto, anzitutto perché è un libro unitario, è un libro veramente il panino di cui diceva Giovanni, che è stato anche ripreso da Filippo, è veramente la struttura del lavoro, cioè il libro è un dialogo, un dialogo intellettuale tra discipline, tra persone che praticano discipline diverse. Questo dovrebbe essere la norma, diciamo, nella produzione scientifica, in realtà è l'eccezione. È abbastanza raro assistere, leggere a un dialogo di questa intensità, di questa portata. Il senso complessivo del libro si coglie solo alla fine, nella vostra risposta, quindi il senso azione, ricezione e sanzione, la tripletta. Si capisce solo alla fine e lo si capisce dopo averlo letto due o tre volte, perché è un libro molto impegnativo, è un libro difficile, tecnico, appassionato, ma è freddo allo stesso tempo, diciamo. Ed è, come è stato detto adesso, diciamo, un libro in qualche modo fondativo, cioè che ha un'intenzione fondativa, seminale, di far nascere un nuovo campo di studi, è molto ambizioso. Quindi, diciamo, ci ho detto, ci ho apprezzato, si tratta poi di un libro curato da due amici, i quali mi hanno chiesto di non risparmiare la critica, di andare un po' contro pelo, per provare anche a discutere. Anzi, in realtà me l'ha chiesto Giovanni, quindi tu, Alessandro, sei vittima di questa cosa. Prenditela con lui. Allora, la prima critica è questa. Sono contento di quello che ho appena sentito, perché noi non ci conoscevamo prima, ma, diciamo, credo che le nostre due relazioni andranno, insomma, saranno molto convergenti. Allora, il primo è una visione un po' unilaterale della pratica progettuale, cioè la descrizione che voi fate della forma dell'azione, non per scopi critici, ma per individuare le condizioni di efficacia, questo vi interessa, e questo va benissimo, è circondata da non descrizioni di altre non forme dell'azione. Burocrazia, sompritendenze, committenze, concorrenti, entrano nella descrizione della vostra pratica come appunto non descrizione di non forme, cioè ne parlate in modo, come dire, ingenuo, parlate di burocrazia, parlate di soprintendenze, parlate di committente, in modo monolitico, in modo unitario, senza quell'attenzione a inessi attori, dispositivi, a tanti documenti, processi che invece riservate alla vostra autodescrizione. Ora, immaginiamo che in questo momento, ora, in questo preciso istante, su un altro pianeta che chiamiamo e non lo chiamiamo per primi, Tlon, in un luogo chiamato il quadrato degli elettori, invece che il circolo dei elettori, si stia svolgendo in parallelo la presentazione di questo stesso libro di due funzionari pubblici, due burocrati, che autodescrivono la forma della loro azione burocratica e arrivano alle stesse conclusioni dei nostri due architetti. Nel farlo, sono tutti concentrati sul fluire piatto superficiale, il vostro punto di entrata analitico, della loro pratica progettuale. E quando parlano di ciò che li circonda lo fanno in modo indistinto, lo fanno in modo opaco, cioè parlano di architetti, parlano di tecnici, parlano di progetti, mentre quando autodescrivono le loro pratiche sono ricchi di dettagli, di riflessioni e di concettualizzazione. Ecco, questi due mondi, il mondo degli architetti riflessivi che descrivono la forma dell'azione e le sue condizioni di efficacia, trattando il contesto come il cielo delle stelle fisse, e il mondo dei burocrati riflessivi che parimenti descrivono la forma dell'azione e le sue condizioni di efficacia, trattando il contesto, cioè voi, come il cielo delle stelle fisse. Questi due mondi si autodescrivono come testi e trattano ciò che li circonda come contesto senza farlo mai diventare co-testo. Ecco, io vorrei il prossimo libro fosse invece in questa seconda direzione, che era anche quello che accernavi tu. Da questo punto di vista mi permetto di dire che la descrizione della forma dell'azione che voi, i due architetti di riferimento, come li chiama Maurizio il suo riferimento nel libro, i due architetti che la forma dell'azione che ci consegnate è un po' piatta. So che, come dire, la piattezza è un punto di vista laturiano, la società non ha profondità, seguiamo l'azione e il suo fluire non ci sono livelli, va bene. Però ha dei costi questa scelta, come dire, mi sembrate un po' agli abitanti di Flatlandia che abitano in un mondo a due dimensioni, testo e contesto, in un mondo composto da un piano che per questo piano che per voi è l'universo, in realtà l'universo ha più piani, ci sono più livelli. Non incontrate mai le sfere provenienti da Spacelandia, il mondo a tre dimensioni, testo, contesto, ecotesto. Queste severe secondo me vi illuminerebbero sulla presenza di una terza dimensione. Una terza dimensione che vi direbbe che anche i burocrati vivono nel vostro stesso mondo, mentre voi li trattate con un linguaggio appunto naturale. Anche la descrizione della forma della loro azione è co-costituita dal ritardo e dall'intoppo. Il ritardo, il progetto non ha un ritardo, è un ritardo, dice Maurizio nel suo saggio. Anche la loro azione è descrivibile come una sequenza di scambi complessi, di iscrizioni documentali esattamente come la vostra. Invece i nostri poveri burocrati entrano appunto come il cielo delle stelle fisse, come contesto unitario immobile di cui non si colgono i meccanismi interni. E sappiamo bene però che la burocrazia non è quella cosa lì. Cioè lo sappiamo, lo sanno i sociologi. Crozier e Friedberg quando descrivono la burocrazia francese ne parlano come di un regno dove il tema è il potere e il potere è il controllo dei margini di incertezza dell'altro. Taylor e Weber pensavano alle burocrazie come grandi sistemi meccanici che funzionavano non attraverso persone tattiche o strategie ma attraverso ruoli loro smontano questa descrizione e dicono che in realtà nelle pieghe delle norme nelle pieghe delle regole si agisce in modo tattico in modo anche strategico. E un'altra cosa che dicono Crozier e Friedberg è che il conflitto e il potere e la gestione dei margini di incertezza si dà anche dentro le organizzazioni non solo tra le organizzazioni e questo anche manca un po' cioè voi vi autodescrivete in modo armonioso cioè non c'è mai traccia ombra di un conflitto interno ad esempio all'interno della vostra pratica progettuale all'interno della coalizione plurale che compete e vince i bandi poi questi bandi vanno incontro a ostacoli si interrompono ma voi non litigate mai voi siete sempre amici e questo non è impossibile è impossibile che tu vinca un bando costruisci una coalizione bandi ricchi immagino dal punto di vista delle risorse e poi poi voi come dire non litigate mai non avete mai uno scambio strategico qualcuno che in virtù del suo status del suo potere impone un certo corso d'azione dice no ragazzi bisogna andare avanti comunque perché bisogna portare la insomma la barca in porto quindi ritardi negoziazioni scambi iscrizioni documentali emergono nella descrizione che fate come gli elementi di contesto sullo sfondo appunto sullo sfondo di uno sfondo che non ha non ha questi stessi elementi che voi usate in modo analitico per autodescrivere e restituite anche una lettura armoniosa priva di asimmetrie priva di potere priva di tattica dentro la pratica progettuale cioè dentro la coalizione progettuale che voi di cui voi fate parte flatlandia torna anche un po' nella descrizione dell'innovazione che ha accennato anche Filippo prima cioè voi distinguete tra teatro e bottega il teatro è lo scambio simultaneo la bottega è lo scambio differito e il teatro però non è solo quello il teatro ha anche un retroscena voi descrivete solo il front stage del teatro non il backstage allora noi possiamo pensare alle opere ai progetti che voi descrivete o anche a eventi diciamo che riguardano la nostra città come la riqualificazione del palazzo del lavoro senza pensare che ci sia un backstage cioè noi diamo crediamo davvero che la riqualificazione del collegio Carlo Alberto che descrivete del palazzo del lavoro non abbia un backstage che in realtà è tanto importante forse di più del front stage è come se voi in qualche modo vi qui lo dico in modo provocatorio vi illudiate che esista un mondo dove tutto può essere descritto in modo trasparente invece in realtà è un mondo dove solo ciò che è trasparente può essere descritto c'è opacità e questa opacità in qualche modo deve essere fatta insomma va fatta emergere infine un'ultima notazione che di nuovo riprende quanto è stato detto prima in modo insomma sorprendente voi scegliete di dialogare con i filosofi questo va bene certamente e però mi chiedo se non ci sia come dire dietro questa scelta anche una scelta di status di potere di riconoscimento dentro la professione cioè la filosofia rispetto all'architettura ha uno status diverso da quella che hanno le scienze sociali rispetto all'architettura secondo me vi perdete delle cose a non dialogare con i sociologi e sono quelle sono quelle che ha detto però vorrei capire da voi anche che tipo di retribuzione pratica e simbolica deriva da porsi come teorici del progetto invece che come progettisti rispetto alla comunità degli architetti che non fanno che fanno un altro lavoro e che vi guardano diciamo così un po' con ammirazione un po' e un po' anche con timore secondo me secondo me è ancora Alessandro che deve intervenire come coautore io poi faccio la nottola di Minerva no? mi prendo io questa palla rovente che mi dà Filippo grazie cioè grazie perché sono un po' masochista ma comunque grazie un po' fantoziano dire grazie però provo a procedere a ripercorrere per ordine le cose che ho sentito dal primo Filippo al secondo a Filippo il primo a Filippo il secondo perché altrimenti diventa troppo complicato e tra le moltissime cose prendo una prima questione che Filippo sottolineava rispetto al modo di raccontare le nostre storielle lui dice non vi credo molto quanto raccontate le vostre storielle perché sono parziali sono autobiografie quindi hanno tutti i caratteri delle autobiografie e la malattia delle autobiografie sono prospettiche e in questo inizio anche già un po' rispondere a Filippo diciamo la condizione prospettica è dichiarata è ammessa è l'unica che abbiamo quindi in fondo noi non possiamo fare altro che ammettere la prospettiva in cui siamo mentre progettiamo e quindi quello che pretendiamo di fare al massimo per passare dal particolare al generale come tu dicevi non è tanto fare una induzione per cui il nostro caso particolare rappresenta qualcosa di universale o di costante ma sono degli azzardi sono dei delle abduzioni forse o delle pretese di abduzione nel senso che è vero che nessuno storico accetterebbe di teorizzare su quello che noi portiamo come materiale empirico però noi facciamo così cioè noi ci buttiamo e diciamo ai filosofi guarda mi sono successe queste cose o almeno questo è come io ho visto le cose non è che per caso queste cose mi succedano per questi motivi questo è la modalità quindi anche per chiarire lo schema diciamo epistemologico di questa il che magari lo rende dichiara la propria diciamo limitatezza dal punto di vista epistemologico e poi sull'efficacia tu dicevi vi piace il caos può darsi però il problema che ci piace il caos è grave cioè nel senso che è una forma di perversione se noi ci rotoliamo dentro questa nostra limitatezza perché primo perché diventa un alibi nel momento in cui teniamo diciamo la barra dentro questo modo labirintico di fare i progetti e generalizziamo gli inciampi stiamo anche rischiando di abbiurare a un ruolo diciamo di responsabilità e questa è la critica tipica che viene mossa a queste nostre elaborazioni ma poi soprattutto io penso che la forma ci debba essere è vero che qui viene lasciata indietro ma in dei passaggi un po' stretti un po' complicati soprattutto nel dialogo con Moroncini questa cosa viene fuori cioè c'è un atto c'è un atto in cui noi ci sbilanciamo e su quell'atto noi comunque dobbiamo fare qualcosa e non possiamo dire che semplicemente noi non ci mettiamo a riflettere sull'atto ma rimane come presupposto di tutto il lavoro quindi io credo che lì invece ci sia anche la questione di responsabilità e da qui arriva la questione politica tu dicevi ma avete un obiettivo politico sì nel senso che è un obiettivo tecnologico nella misura in cui consideriamo la tecnologia una questione prettamente politica e viceversa allora stiamo facendo qualcosa cosa intendo tu dicevi il progetto è una forma di potere noi non vogliamo come dire avere influenza non è una questione di influenza però o di come dire avere una capacità di manipolazione ma la scommessa è che proprio anche senza influire possiamo trasformare la realtà a chi è rivolto questo libro è rivolto uno potrebbe dire ai cittadini attivi non solo agli architetti possiamo dare due risposte io potrei dare due risposte una è ai cittadini attivi cioè c'è un modo di trasformare la realtà che non passa per una sistematica persuasione per un discorso di tipo normativo basato sul dover essere si può fare in un altro modo e di qui l'atto di cui parlavo prima e l'altra invece è rivolta a una comunità piccola una cricca di pochi ricercatori che stanno dentro i politecnici per esempio e che hanno un problema specifico di dare consistenza scientifica alla propria ricerca in quanto architetti queste sono non è necessariamente l'una risposta esclude l'altra ma sicuramente sono due pubblici diversi potrebbero essere anche due livelli diversi di lettura del libro ma sono pensati entrambi tenete conto che comunque questo libro è stato fatto attraverso un dialogo stratificato cioè noi per due anni di covid con i dottorandi con i filosofi grazie soprattutto a Maurizio che ci ha presentato i filosofi e ce li ha portati abbiamo potuto costruire mandarci delle lettere scrivere delle cose una sull'altra e arrivare a questa cosa qui quindi è anche il condensato di un lavoro collettivo ecco diciamo tutto questo vado a Filippo cercando di essere breve quindi certo che una visione unilaterale certo che siamo in Flatlandia è un'ipotesi geometrica e riduzionista quella dell'impianto discorsivo che noi proponiamo e vorrei vorrei che fosse dichiaratamente così noi non possiamo far altro che essere in Flatlandia ammettiamo la nostra piattezza perché se non lo facessimo staremmo mettendoci in un punto di vista in una prospettiva diciamo panottica per usare un termine che usa la tour appunto che per noi non funziona certo che addirittura nell'altro libro che tu che Filippo citava prima noi avevamo addirittura usato in modo totalmente improprio e da dilettanti la monadologia per spiegare questa cosa per cui noi sappiamo che il burocrate ha un problema simile al nostro ma non abbiamo nessun accesso quando siamo in atto quando stiamo combattendo con lui contro di lui noi abbiamo dei varchi che apriamo solo su delle dimensioni molto ristrette ci sono solo dei momenti e delle condizioni specifiche in cui noi possiamo riconoscere il burocrate come l'altro dotato di una profondità altrimenti rimaniamo siamo dobbiamo dire per una questione di diciamo etica professionale che siamo bloccati nella nostra piattezza quindi non solo hai ragione ma direi che proprio questo è il movente di questo discorso dopodiché noi litighiamo è chiaro che litighiamo nel senso che questo ripiegamento continua all'interno e per dire che non siamo neanche noi d'accordo con noi stessi vuol dire che prima di tirare fuori un disegno che corrisponde a una enunciazione unitaria ci siamo scannati quindi questo probabilmente c'è e poi tu dicevi l'opacità va fatta emergere perché cioè va fatta emergere in base a cosa io non riesco a far emergere l'opacità mentre progetto questo però certo come facciamo noi affari teorici del progetto si come ci guardano gli altri architetti malissimo e forse hanno ragione nel senso che la pretesa panottica si ripropone nel momento stesso in cui noi proviamo a descrivere tutto questo quindi il problema c'è ed è grave sicuramente io mi fermerei qui grazie intanto vedo se questo piccolo apparato tecnico che ho cercato di creare può funzionare cioè se uno può parlare con il microfono dentro è comodo perché così resta libera una mano si vediamo comunque intervengo appunto pensando innanzitutto questo questo come è stato detto anche di incontri dialoghi scambi tra filosofi architetti nella storia ce ne sono stati tantissimi molto spesso secondo me anche ai livelli più alti questi scambi sono stati un po' esteriori come quello tra l'artista e il critico d'arte cioè l'architetto e l'artista che dà le forme fa le cose e il critico d'arte è quello che mette le parole spesso parole d'ordine che vengono adoperate un po' per disegnare una pratica secondo delle delle tendenze culturali del momento evidentemente persino con delle forme paradossali interessanti ma paradossali cioè che lo scambio tra Jacques Derrida e Peter Eisenman abbia dato luogo ad un'architettura decostruttiva anche i più semplici tra gli uditori non mancavano di vedere lo simoro di un'architettura decostruttiva poi uno ci poteva ragionare dentro e capire così come per restare all'area torinese c'è stato per tanti anni un importante scambio tra Piero De Rossi e Gianni Vattimo e lì non a caso c'è stata l'architettura debole anche lì l'architettura debole si augurava che non si riferisse alle strutture ma si riferisse ad una lettura del postmoderno che fosse meno assertoria che il movimento moderno con la forza del progetto che si impone su tutte e su tutti nel complesso comunque l'immagine aveva dei limiti nel senso che un'architettura debole credo costruttiva non rassicura quantomeno il committente ma questo è un altro discorso il punto di incontro che sta alla base di questo confronto che abbiamo avuto è fra l'altro non accidentale non conviviale cioè non è che semplicemente ci siamo visti a cena e poi abbiamo deciso sì effettivamente ci siamo visti a cena una volta tanti anni fa abbiamo litigato quindi poi però di lì sono nate tante cose ma il punto di fondo è un progetto più generale l'idea cioè che l'architettura è in qualche misura la quintessenza di quel tipo di incontro tra saperi umanistici e saperi tecnologici che sono sempre più necessari per il momento contemporaneo quindi tu hai definito prima gli architetti come i reglietti o i discoli del Politecnico perché da una parte ci sono i veri progettisti e dall'altra invece ci sono questi qua che ogni tanto si mettono il papillon fingono di essere degli artisti o cose di questo genere ma abbiamo di fronte a noi il rettore Saracco che ha impostato la sua azione politica sul Politecnico proprio come incontro tra i saperi umanistici e i saperi tecnologici perché la tecnologia quale che essa sia attualmente non può prescindere da delle dimensioni umanistiche e quindi io credo che sia questo l'impianto fondamentale che sta alla base dell'incontro che è avvenuto e questo incontro del resto lo dicevano anche Alessandro e Giovanni è frutto di uno scambio che va avanti da parecchi anni quindi in un certo senso il fatto che ci fosse uno che fa il professore di filosofia e poi due architetti è stato anche indubbiamente contingente nel senso che poteva esserci il rappresentante di qualche di qualche altra disciplina però c'era io ho visto in questo invece qualcosa come la filosofia come la più umanistica delle discipline umanistiche in generale perché è quella che si propone di parlare dell'umano in generale e l'architettura come a sua volta la più umanistica le discipline tecnologiche nel senso che per tradizione per storia è sempre stata più legata a dei discorsi umanistici questo non dà all'incontro tra diciamo così i filosofi nel senso che poi io in quanto professore di filosofia conoscevo degli altri professori di filosofia ho coinvolto gli altri professori di filosofia nel dialogo con voi nessun tipo di necessità o di scelta è stato sicuramente una una contingenza una contingenza che però voleva essere diversa non programmaticamente ma infatti era diversa dalle precedenti forme di incontro tra architetti e filosofi a cui ho fatto riferimento prima che erano secondo me un po' più mondane e un po' più sloganistiche che non invece forse perché gli attori implicati non voglio dire di Alessandro e di Giovanni ma sicuramente di filosofi erano di taglia ben più grande che il filosofo che voi avete avuto la sventura di trovarvi fra i piedi però ognuno fa con quello che ha da questo punto di vista io trovo giustissima la considerazione per cui manca la figura c'è questa ontologia piatta per cui manca la figura del burocrate manca la figura del committente questo sicuramente è un limite che si può trovare qua dentro ma perché questo è il risultato di un seminario e di un lavoro che partiva dall'incontro non potevamo mica andare a cercare dei burocrati tu dici andate a cercare di burocrate ma a noi sembrava già tanto fare quello che facevamo adesso ci rendiamo conto che la nostra idea di essere rivoluzionari nel senso di filosofi architetti che dialogano insieme su dei concetti comuni non semplicemente scambiandosi delle gergalità ma cercando di ragionare sul concetto di progetto era già molto voi ci dite guardandoci dall'alto in basso sì vabbè sì male non fa ma si poteva fare molto meglio senz'altro e avete perfettamente ragione cioè si poteva fare molto meglio ma noi per il momento questo abbiamo fatto che però se vogliamo è già un passo in avanti rispetto alla teoria del progetto architettonico che ha tutta la dimensione che è prioritariamente architettonica perché ovvio è stata scritta da Giovanni e da Alessandro ed era il libro di due teorici del progetto architettonico qui il progetto architettonico entra in dialogo con altre forme di progetto ma ovviamente come si dice se non è che è un debut si può immaginare tutta una serie del molino architetti con architetti e cuochi architetti e burocrati architetti e committenti architetti e committenti scontenti questo sarebbe un capitolo gigantesco e estremamente istruttivo dovreste riuscire a trovare 4 o 5 committenti violentemente scontenti e dare libera voce purtroppo spesso i committenti però non sono degli accademici quindi non hanno voglia di scrivere articoli o saggi per dar ragione del loro scontento però questo per dire che io considero questo libro almeno l'ho vissuto io come un momento di avvicinamento tra filosofia e architettura al di là delle forme canoniche che avevo conosciuto quando ero studente di filosofia o giovane o giovane professore vedevo come interagivano i filosofi e gli architetti però appunto questo è soltanto è soltanto l'inizio adesso mi chiedo se ci sono dei committenti in sala o dei burocrati o qualcuno che vuole immediatamente candidarsi a prendere parte a delle perché oramai la ditta d'Urbiano Armando può costruire più libri che case e quindi io non ho altro da dire su questo no ecco c'era un'ultima cosa che dicevo il presupposto però il filo conduttore che dalla teoria del progetto architettonico conduce al dialogo con i filosofi e condurrà ad altri dialoghi successivi è l'elemento ispiratore di Alessandro e Giovanni e cioè quest'idea per cui il progetto non è come lo spirito che vaga sulle acque dall'alto che cada è surreale eccetera uno dice sai che ho scoperto no nessuno ha scoperto la maggior parte di coloro che teorizzano il progetto sono persone che pensano che il progetto sia davvero qualcosa come innanzitutto la manifestazione di uno spirito di un'intuizione di una volontà e lo dico non soltanto dal punto di vista appunto di facili archistar che possono essere evocate ma anche lo stesso Heidegger quando parla del progetto e insiste sul fatto che il progetto è gettato cioè il progetto si trova all'interno di costrizioni condizioni eccetera non parla di burocrati anche lui dovrebbe essere messo al muro ma comunque ha presente quali sono i condizionamenti del progetto tuttavia lo stesso Heidegger dice comunque lega il progetto ha una dimensione fondamentale nei confronti della libertà mentre qua c'è principalmente l'idea della negoziazione che è già una visione molto diversa grazie a tutti